buongiorno piccoli contadini come si va allora oggi invece di vedersi in diretta ci si vede in video perché con tutta questa emergenza anche le dirette facebook che ogni tanto fanno ciliecca è perché tutti vanno su internet cioè parecchio traffico come si dice è allora noi si dice sai che si fa noi si fa un bel videino e si prova a mandarlo uguale ai piccoli contadini perché mica ci si ferma si sta a casa ma non ci si ferma si fanno uguale queste belle chiacchierate con voi che mi piacciono tantissimo allora oggi faremo così la pianta che vi presenterò è il rovo il rovo sapete quello che fa le more è la storia che vi racconterò è una storia di quando io ero piccolo una cosa successa a me ho pensato per qualche giorno di raccontarvi le cose che mi sono successe quando ero bambino in campagna che ne pensate perché io le mie storie per ora le avrei finite anzi se vi viene in mente qualcos'altro qualche animale qualche idea per una storia ne scriviamo dell'altra va bene è un'idea per qualche giorno e mi è venuta è questa di raccontarvi questo sapete perché perché quando le racconto alle miei bambine queste robe qua si schiantano dalle risate allora ho detto forse forse come si schiantano dalle risate loro magari si schiantano alle risate anche i miei piccoli amici contadini che ne pensate vediamo un po se vi piaceranno la prima storia è questa qua di quando io vivevo nella fattoria dei miei genitori dei miei nonni a verona è perché io vengo da lì sono nato lì poi sono venuto in toscana quando avevo 11 anni ma prima ero lì e insomma c'erano le mucche i vitelli il maiale i polli l'orto e tutto quanto insomma un bel giorno hanno portato i vitellini piccoli allora siccome io col mio zio mi divertivo sempre a giocare a a john il bandito mi sembra no jack il bandito jack dicevamo ecco al bandito jack e agli indiani allora a me piaceva tanto i film western mi piaceva tanto i film del medioevo dove si andava a cavallo tutte queste cose qua insomma a un certo punto cosa succede sono arrivati sti vitellini e io sapete che pensavo pensavo di fare il rodeo e pensavo di fare il rodeo e allora lì mi mi sono arrampicato sulla stalla e c'era il recinto mi sono arrampicato e avevo preso una cordicella in mano una cordicella piccina e avevo fatto il lazzo capito avevo fatto il cappio sapete cos'è il cappio è un nodo con te fai così con la corda va di ritorno e se ti stringi si chiude insomma gli ho dato da mangiare con una mano al vitellino e con l'altra gli ho messo questo questa cordicella che ha il collo non si è mosso bravo io ho scavalcato o gli sono montato un groppa potapim potapum potapim tempo tre secondi sbra sono cascato all'indietro e all'indietro per terra sapete che c'era c'era la faglia e la cacca del vitello e quindi mi sono ritrovato così col vitellino e scappava mi sono alzato tutto a piangere sono andato alla mia nonna a piangere ma cambiavo tutto insomma un'avventura con quel vitellino da morire che non me la ricorda che non me la scorderò mai più e quando gliela racconto alle mie bambine vogliano che gliela racconti tante volte sempre capito eccola qua quindi questa è una storia di quando ero piccino potremmo chiamarle le avventure di pietrino vi piace e chiamiamo così in questi giorni così si fa due risate è la pianta e volevo farvi vedere come vi dicevo è il ruolo ora fa come quando si andava in diretta nei giorni scorsi è stacco il telefono e andiamo qui a vedere così vi racconta alcuna cosa vedete cosa c'è qui qui c'è il recintino dell'orto che faccio io ho fatto un recinto basso basso perché qua dovete sapere che abbiamo alcuni amici grassi grossi e pelosi che si chiamano cinghiali che vengono a mangiarci le verdurine dell'orto allora io cosa ho fatto io ho fatto un recinto basso basso con la rete così loro non entrano tanto mica saltano cinghiali e allora cosa ho detto siccome a me piace fare l'orto come fa con gli stessi ragionamenti e fa la natura allora ho detto io il recinto non deve fare solo il recinto perché per esempio gli alberi fanno tante cose fanno i frutti mantengono unito il terreno si può prendere la legna fanno da casa per gli uccelli fanno ombra fanno tante cose perché la natura fa così non fa mai una cosa sola alla volta ne fa tante anche l'erba per esempio l'erba arricchisce il terreno è da mangiare per animali produce ossigeno e tante altre cose allora anche io ho detto la rete non deve fare solo la rete la rete per proteggermi dai cinghiali deve fare anche altre cose e cosa ho pensato ci faccio arrampicare il rovo e qui veniamo alla pianta la pianta del rovo è quella che fa le more vedete c'ha le spine guardate che spinotte che c'ha ed ha appena germogliato il rovo di solito noi ce ne accorgiamo che c'è solo quando ci sono le more invece dovete sapere che anche le foglie del rovo gli antichi romani per esempio le usavano nell'insalata perché si possono mangiare eccola qua vediamo se lo mettiamo a fuoco è questa fogliolina eccola lì guardate che bella che hanno appena messo allora io in questi in questo recinto in questa recinzione qua alleverò il rovo per fare le more così poi ce ne mangiamo e inoltre che cosa succede allevandolo qui succede che poi la recinzione diventa fitta 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 e spinosa fungente quindi funziona ancora meglio che altro posso dirvi del rovo che ad agosto primi di settembre il rovo fa le more le more quelle quelle nere proprio che sono buonissime ed è questa la pianta che fa le more quindi finalmente vedrete sicuramente alla fine potremo uscire potremo andare a raccogliere le more che si trovano in giro dappertutto e sono buonissime ci si può fare la marmellata ci si possono fare tante cose i germogli come vi ho detto gli antichi romani usavano mangiarli e con le foglie anche si può fare una bella tisanina buona buona se volete è che è astringente cioè se uno ha un mal di pancia quella funziona molto molto bene va bene ecco bimbi allora ho raccontato l'avventura del vitellino ho raccontato del rovo vi ho spiegato anche come come si fa a fare una recinzione per i genitori ma anche per per voi se avete voglia questa cosa qua che ho spiegato prima si chiama permacultura andate a cercare è un modo di intendere l'agricoltura i progetti da fare in un modo intelligente come fa la natura ecco via ho raccontato tante cose va bene ci si vede domani piccoli contadini ciao vediamo un po se funziona anche senza diretta ciao ciao